Il 22 agosto 1874 12 paesi adottano la Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati in campagna. Questa data viene riconosciuta come data per la nascita della Croce Rossa internazionale. Per la prima volta si parla dell'emblema di Croce Rossa ma non è vero. L'emblema di Croce Rossa era già entrato nell'anno precedente alla conferenza internazionale del 1863. Con questa convenzione il futuro Movimento della Croce Rossa presenta la sua modalità di azione. Si parla di personale che agirà in modo neutrale. La neutralità compare sei volte, l'umanità una volta. L'umanità perché basta dirlo solo una volta. Neutralità perché deve essere chiaro che i volontari di Croce Rossa agiscono in modo neutrale. Significa che agiscono in modo da non pensare alle conseguenze per sé o per gli altri della propria azione per il risultato del conflitto. A prescindere dal risultato del conflitto, le persone che si trovano coinvolti devono essere soccorsi e chi indossa il simbolo della Croce Rossa deve essere tutelato e protetto. La Convenzione di Ginevra ha un effetto dirompente, tant'è che tutti gli stati europei e non europei correranno veramente nei mesi successivi a firmarla e a riconoscerla anche come proprio obbligo. Tra questi paesi è anche paesi non cristiani. L'impero ottomano firma la Convenzione pochi mesi dopo gli altri. È solamente durante la guerra contro i russi che ci si accorge che i soldati musulmani fanno fatica a essere accolti da personale con la Croce Rossa e per cui si preferirà chiedere l'adozione di una mezzaluna. Ma la Croce Rossa veramente viene vista allora come un simbolo a religioso, solo un modo di raccogliere tutto il personale sotto un unico simbolo distintivo e protettivo. Altri due motivi perché la Convenzione ha questo effetto dirompente è che vincola per la prima volta gli stati ad adottare e riconoscere la protezione prima ancora di entrare in conflitto. Di solito venivano decise delle regole di tregua o di riconoscimento di tutela del personale durante un conflitto, a seconda di chi erano i belligeranti. Questa è la prima volta che ci si vincola prima ancora di entrare in conflitto. È per questo che da qui nasce il diritto umanitario internazionale ed è per questo che il 22 agosto si festeggia la nascita del movimento internazionale di Croce Rossa.